notte sul ghiaccio allora tu non ci crederai forse ma valeria marini è stata ripescata ripescata è venduta a tranche allora pratica la coppia formata da valeria marini e federico degli esposti la coppia no che balla che inguatta balla balla con lei sul ghiaccio sul ghiaccio no ma non segui notti sul ghiaccio ma tu che cazzo fai la sera e il sabato sera tu che fai a sera sabato sera ma quanti anni c'hai 70 80 davanti al camino ma che vita fa questo ma me fa la pena ma tu veramente proprio cioè ma notti sul ghiaccio cioè aveva fatto anche un appello valeria marini a dei lettori di un sito web come di votatemi non mi ha mandato a casa insomma stata ripescata perché aveva votato il ghiaccio che succede no vabbè perché insomma guardando le fisiche di valeria marini tutto dici danno che è una ballerina insomma quindi se vede che c'aveva bisogno del signore io non lo so chi cazzo lo guarda cioè non lo so ma anche io lo guardo no però io esco no ma il problema non è se lo guardi o non lo guardi il problema è che tu di sabato sera non puoi stare davanti al camino a leggere un libro hai ragione eh sabato sera si esce sentami tu quelle quelle soccolo amiche due e vediamo che possiamo fare ma quale amiche mia no ma che dici e che dico e che dico mannaggia questo manda bevuto da gente no perché ci voleva dici no che non si può dire no eh ci ho pensato ma peraltro non stai a registrare no ma come non sto a registrare siamo in diretta siamo ma no ovviamente giocavo no eh giocavi si giocavo eh si mancherebbe altro vabbè senti comunque valeria è stata ripescata noi siamo contenti perché è comunque una presenza importante all'interno di una trasmissione cioè se io ho una presenza importante nel panorama sociologico italiano eh spiegaci questa cosa dai no perché comunque le sue uscite le sue creazioni la sua presenza il suo status è anche stilista se non sbaglio contribuiscono da aumentare l'importanza della società perché mo finché si scherza va bene però adesso facciamoci un attimo seri comunque sono anni che sta sulla scena sono anni che sta sulla scena mi sono fatto serio no vabbè no perché stavo a pensare è nato serio mi sono fatto serio è brutta come cosa cioè come immagine proprio comunque vabbè vabbè marini mo siamo seri sono anni che è imperversa sulle scene sì e comunque no certo e le scene sono state grade a lei esatto e anche noi sì comunque ci ha portato ci ha portato del sì che ci ha portato che ci ha portato ci ha cresciuto no ci ha cresciuto no ci ha ha cresciuto la nostra fame di sapere valeria che è la nostra scottatrice noi ti salutiamo e prendici così come siamo perché noi non sappiamo manco quello che stiamo a dire ma io lo so sì sì no nel senso noi ti stimiamo però sai se noi facciamo un video dove diciamo padre marini è stata ripescata non ci guarda nessuno se invece noi iniziamo un po a giocare con le parole che fiumi di parole fiumi di parole dove facciamo crede che tu magari è allora magari la gente no sta andando o cazzo quattro minuti quattro minuti è troppo per un video ciao scusa no no ciao ciao c'era quattro minuti è troppo sta parlando di marini ciao